siamo stati invitati al tsm classic masters trophy e vediamo che cosa abbiamo abbiamo l'audi abbiamo la bmw una dazuna un'altra bmw una ford cosworth skyline la 190 e che era un bestione la ford capri un'altra skyline e una porsche non saprei il vincitore è l'audi v8 4 tdm prendiamo un numero ignorante come il 44 e partiamo mazza si è stretta questa pista che vado per prati adesso mazza tutta sta gente qua vabbè un po di sorpassi erano illegali ma vabbè tanto è un evento a invito a sportività possiamo anche lasciarla a casa mazza ma è tortuoso eh ma per chi è che mi ha spinto mi ha spinto seriamente che problemi hai mi hanno preso in pieno più volte no vabbè vabbè ultimo posto dopo l'errore mi ha preso in pieno la pagherai siamo stati invitati al fan ever challenge trophy abbiamo un ford f150 un bestione andiamo alla corsa ok questa è una gara di rally cross e quindi c'è il giro jolly che bisogna fare per forza nevica pure no mi sono girato ok rally cross non fa per me siamo stati invitati al gruppo 5 turbo masters siamo di nuovo allo sport lanzugo e ci votiamo in gara no 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 Onesto sul podio. Porsche ha deciso di affidermi la prova della sua 918 Spyder in questo tratto di costa azzurra. Vediamo come va a finire. Vediamo come va. 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 Grazie a tutti.